Il Tar Calabria fa tirare un sospiro di grande sollievo ai tanti tifosi del Crotone, ma la battaglia non è stata semplice. Il Comune ed il Crotone Calcio hanno dovuto argomentare le loro ragioni davanti ad un ministero recalcitrante e per nulla propenso a mollare la presa. I giudici amministrativi hanno in sostanza riconfermato quanto avevano già annunciato quando avevano concesso la sospensiva. Ora, nella sentenza, il Tar Calabria ribadisce che le strutture non insistono sull'area vincolata direttamente, ma su un'area limitrofa. Il sindaco di Crotone, da parte sua, sottolinea il fatto di essere amareggiato per aver dovuto sostenere un contenzioso con un'altra istituzione di derivazione ministeriale. Un contenzioso, dobbiamo dire, che naviga tra una serie di interventi da parte di più soggetti che portarono il Ministero dei Beni Culturali ed Archeologici a chiedere l'abbattimento delle strutture metalliche dell'uscita. Un contenzioso, aggiunto il sindaco pugliese, che si sarebbe dovuto evitare. La città ha bisogno di altro, ha detto ancora Pugliese, di coesione, di sostegno e non di tentativi di sbarare le porte a tutti i costi solo per partito preso. Ora si attende all'inizio del campionato con uno stadio esuscita che tranquillamente potrà ospitare tifosi e cittadini del Crotone.